grande milan siamo dal scudetto noi ci siamo e lotteremo fino alla fine lotteremo fino alla fine alla faccia dei gufi che dicevano che mi era una squadra vedete che squadrone fuori casa una macchina da guerra fuori casa una macchina da guerra già da anni che fuori casa siamo una macchina da guerra l'abbiamo dimostrato anche in champions ottimo risultato con liverpool nonostante abbiamo perso diciamo no risultato ottima prestazione ad anfield e a madrid abbiamo vinto quando ci date per morti il milan c'è quando sempre ci sono le partite che dice minchia ora è dentro fuori il milan c'è questa è una squadra che può vincere lo scudetto non è matematico non è scritto sulla pietra ma si può e leo questo già l'aveva capito da inizio stagione grande competente leau come vi dissi già da tempo quando l'avevano acquistato va sulle fasce non è una prima punta è uno che deve giocare sulle fasce micidiale girù è pur sempre un campione del mondo anche a 35 anni suonati come lo stesso ibrahimovic questi sono giocatori particolari se tonali mi sta piacendo sempre di più ragazzi sta crescendo la fatelo crescere in pace grande milan grande milan grande milan doppia gioia anche ragazzi perché mi avevo giocato una schedina qui ve lo dico potevo vincere 1800 euro mi mancava solo il milan ma gli ultimi cinque minuti ragazzi non ce l'ho fatta più ho premuto su non so come si direbbe in italiano sulla vendita l'ho venduta poi a 1196 a 5 minuti dalla fine io ho regalato diciamo 600 euro ma regalato tra virgolette perché altrimenti sarei svenuto se avessimo se avessi perso questi 1800 euro sarebbe stato veramente un casino cioè ci sarei rimasto troppo troppo male e perciò l'ho venduta spalletti che poi alla fine buttava ovviamente giusto però diciamo li buttava tutti ho visto entrare mertens losano elmas prima poi c'era già osimena ancora in campo ovviamente in svantaggio ho detto basta questi sono troppo lì davanti c'è il pericolo agli ultimi minuti il pericolo c'è sempre queste sono partite che possono anche finire poi all'ultimo con un altro gol e quindi l'ho venduta 1196 ho rigiocato una schedina a 100 euro un gol è uguale chi così ho detto se veramente viene un altro gol mi riavvicino di nuovo ai 1800 pur avendo i 1000 già in tasca e alla fine sale me che si mangia quell'occasione lì mamma mia ma stoppala prima ma c'è tutto il tempo stoppala e ficcala dentro e poi ritorniamo di nuovo a 1500 per me va bene va bene così comunque ragazzi doppia gioia schedina vinta il grande milan che dimostra di essere una macchina da guerra specialmente fuori casa ma non solo da questo anno ragazzi già negli anni passati noi stranamente fuori casa poi lo sapevo che potevamo vincere col napoli perché sono squadre che giocano a calcio e lì noi possiamo colpirli quanto si chiudono magari è un po più difficile grande vittoria ragazzi grande vittoria adesso per lo scudetto credo che ci siamo noi e l'inter quindi derby fino alla fine con noi che assolutamente ce la possiamo fare vi ricordo che nel derby di andata di coppa italia abbiamo pareggiato 0 a 0 quindi sono tre le partite in cui l'inter non ne ha vinte nemmeno una e quindi leo quando ha detto che quest'anno una buona squadra e che possiamo ambire a questi obiettivi vuol dire che qualcosa l'ha percepita nell'area siamo cresciuti certo ci mancano ancora uno due siamo passati anche in champions perché fuori casa ripeto un'altra volta solo a porta abbiamo a porta abbiamo fatto male perché anche in champions abbiamo fatto bene fuori casa è un grande milan ragazzi è un grande milan che può lottare per lo scudetto e quando tutti ci danno per morti oppure è la partita che devi che devi fare risultato noi lo facciamo grande milan grazie per questo regalo anche se cavolo se la chiudevate 2 a 0 ragazzi non l'avrei mai venduta quella schedina avrei pappato tutti i 1.800 però mi va bene così dai grande milan e forza milan ragazzi ci vediamo alla prossima che bella serata ciao